ma salva tutti carissimi amici bentornati in compagnia del guerz bentornati in compagnia devosmart.it qua ho un lenovo legion phone duel uno smartphone se non lo smartphone più potente che è stato presentato sul mercato ha delle chicche ragazzi questo telefono soprattutto per chi è interessato al gaming ci mancherebbe altro che davvero sono molto interessanti e soprattutto portano un'esperienza videoludica ai massimi livelli su un telefono ma mettetevi comodi perché vi racconto tutto all'interno di questa recensione come sempre vi ricordo di sostenerci qua sotto con un commento una condivisione iscrivetevi al canale lasciate un like se il video vi piace e adesso vi racconto come gira questo telefono. sì perché questo è anche un telefono ragazzi di conseguenza è un dual sim potete inserire due schede avete una memoria interna da 512 gigabyte cioè mezzo tera potete veramente installare di tutto all'interno di questo telefono e attenzione perché il mio fisso che ho qua alle mie spalle ha 16 gigabyte di mora ram la stessa identica quantità che troverete anche in questo smartphone. pazzesco veramente pazzesco serve tutta questa ram in un telefono secondo me no ma serve a far girare il tutto in maniera molto fluida quando giocate e poi lo capirete il perché. pesa 239 grammi e lungo il frame perimetrale troviamo addirittura due ingressi type C che permettono allo smartphone di generare una ricarica a 90 watt. ricarica super rapida per una batteria da 5000 mAh e vi posso assicurare che in circa mezz'ora ricaricate tutto il telefono fantastico veramente fantastico. la vorrei avere su tutti i miei smartphone ovviamente se stiamo cercando questa tipologia di ricarica sempre lungo il frame perimetrale troviamo il tasto power on e power off troviamo due finti tasti che ci permettono di interagire subito con il gaming quindi ci aprono un'interfaccia di lenovo abbiamo dei sound particolari abbiamo una possibilità di sfruttare alcune chicche favolose veramente in ambito gaming abbiamo anche il logo nella parte posteriore del telefono che è altamente personalizzabile potete scegliere il colore potete scegliere che effetto dare a questo logo quindi figata veramente è tamarro ma non è tamarro è anche elegante nel suo modo di esserlo questo lenovo legend sotto la scocca non poteva mancare il processore targato qualcomm Snapdragon 865 plus a 7 nanometri che permettono a questo smartphone insieme a 16 gigabyte di mora ram di girare come vi dicevo in maniera fluidissima grazie anche al pannello perché abbiamo un display full hd plus amoled a 144 hertz che sono l'abc se volete giocare a un alto frame rate sia su smartphone sia su computer mi raccomando i monitor un millisecondo di risposta a 144 hertz vi permettono con un computer adeguato di giocare ad fps a 144 fps non fa una grinza non pensate al mondo videoludico come un mondo di babbani che stanno su una sedia e diventano enormi perché giocano dalla mattina alla sera alle volte potrebbe succedere ma alle volte ci sono veramente dei giocatori che necessitano di questi smartphone in particolar modo perché l'ambito competitivo esiste anche sul telefono questo non lo dico io ma è un dato di fatto si fanno tornei si vincono soldi si vincono bei soldi anche giocando da smartphone è normale questo è un telefono che lo consiglio solamente a chi cerca un prodotto del genere anche perché veramente dovete sfruttare al massimo queste caratteristiche cosa fa in ambito gaming questo telefono una volta aperta l'interfaccia voi potete avere tutta una vostra dashboard dove vedete il ping dove avete maggior connessione e in particolar modo potete anche addirittura streammare con questo smartphone senza passare dai classici OBS o streamlabs cioè direttamente dallo smartphone vi potete inquadrare potete registrare il vostro gameplay lo potete mandare online potete fare veramente tutto quindi capite che lo streamer di Twitch potrebbe direttamente dal telefono mandare in rete la propria partita inquadrandosi senza nessun tipo di problema e addirittura sfruttando il green screen che crea questo Lenovo Legion per avere lo sfondo sfocato o per avere lo sfondo che si vuole figata clamorosa di Lenovo in particolare mi è piaciuta anche la possibilità di salvare le clip in pratica tappando i famosi finti tasti come vi dicevo prima potete scegliere di registrare automaticamente gli ultimi 90 30 60 secondi di gameplay veramente un telefono dedicato a chi vuol giocare mi dimenticavo questo telefono fa anche le foto e devo dire non vengono neanche male considerando che non è il plus del telefono 64 megapixel il sensore principale 16 megapixel l'ottica grandangolare video 4k quindi comunque sia vi potete portare anche a casa le foto quindi non dovete per forza considerare questo Lenovo Legion un telefono solamente per i videogiochi assolutamente no ha un ottimo wattire a 5.000 mAh un buonissimo pannello un display AMOLED da 144 Hz e poi l'interfaccia è davvero carina e gradevole vi ricordate gli smartphone ZOOC? Bene la stessa identica interfaccia la ritroviamo anche su questo smartphone lo smartphone costa circa 900 euro lo troverete disponibile sia in rete ma lo troverete disponibile anche allo store Lenovo fisico che hanno inaugurato da pochissimo tempo a Milano come sempre ragazzi voglio sapere la vostra opinione qua sotto nel box dei commenti e anche per quest'oggi da Album Guerza è tutto e adesso vado a fare un altro match a Call of Duty con questo Lenovo Legion Phone Duel ciao ragazzi e ci vediamo domani per un nuovo video ciao